Wow, questo è bellissimo, guardate ragazzi, è praticamente una navicella spaziale Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Oggi sono qua No, no, non fare la cac... No, no Non sta facendo la cac... Senti, io l'ho addestrato per bene Non fa queste cose in pubblico, hai capito? Attacca, attacca No, 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 che cosa attacca? No, no, sei il mio cagnolino No, Fuffi, Fuffi, lasciami stare Senti, bella faccia, a parte gli scherzi, ti va di fare una bella bilbaru? Sì, direi proprio di sì Questa volta se non vinciamo devi fare una penitenza Io? Sì, così ti impegnerai al 100 per 1000 No, no, che penitenza, scusa Eh, non te lo posso dire, ce l'ho già in mente però Ecco, tipo Eh, fossi in te, cercherei di vincere a tutti i costi Ok, eh, ragazzi, mi raccomando lasciate un sacco di like perché aiutano a vincere anche quelli, eh Non è vero, non è... Lasciateli, voi lasciateli, però non è vero Oh mio Dio, una navicella spaziale Questa... Facciamo lo space shuttle Tu fai lo space shuttle, io faccio l'astronauta e faccio anche lo spazio, va bene? Lo spazio lo facciamo blu scuro? Sì, va benissimo, sì Tu fai la navicella spaziale Vai, vai, se sintonia canta... Se mi piace... Oh, se non arriviamo al primo po'... Eh, sto cercando di fare le stelle, aspetta Mi devi impegnare perché non voglio fare nessuna penitenza Oh, farai la penitenza e come? Non c'è la penitenza, no, non c'è No, la penitenza c'è, ragazzi, fidatevi No, 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 che penitenza Ce l'ho già pronta No, io non penso proprio Non vedo l'ora di dirtela No Ok, bisogna farne tante Più o meno è lo stesso concetto delle nuvole Sai che io sono un professionista nel creare le nuvole Sì, lo sanno tutti, lo sanno tutti Sono laureato in nuvologia io E quindi più o meno è la stessa identica cosa Stiamo cercando di fare dei dettagli che possano piacere Così si capisce che ci troviamo nello spazio Senti, se sei così bravo in nuvologia Oggi che tempo fa? Eh, soleggiato a nord-ovest e invece pioggia a sud Cavolo, ragazzi, ma è proprio laureato Sono proprio... te l'ho detto Guarda, vuoi sapere che tempo farà domani? Sì? Non te lo dico Per andare su Marte a mangiare il formato Ah, wow Allora, fagli la punta rossa, va bene? Sì, guarda Per chi mi prendi? Bravo, bella faccia Impegnati perché se no arrivi all'ultimo posto No, no, non vogliamo Allora, gli astronauti Come sono vestiti di bianco gli astronauti di solito, no? Eh, direi di sì, eh Però noi non possiamo utilizzare solo il bianco Altrimenti è brutto Allora, ragazzi, proviamo No, la maglietta la faccio in altro colore Utilizziamo la terracotta Wow Sì, a voglia Mi piace tantissimo Bravo, bravo Mi piace veramente Non sto mentendo Grazie Stai mentendo secondo me Secondo me Sta mentendo È veramente molto bello Bravo Allora, qua sto facendo il nostro amato astronauta Come lo chiamiamo? Gli dobbiamo dare un nome? Calimero Calimero, perfetto Abbiamo fatto il nostro Calimero Vi faccio gli occhi storti intanto Così Allora, aspetta Devo fargli adesso le braccia Come faccio a fargli le braccia? Le braccia Non saprei Potremmo fare tipo che sta tenendo Che sta cercando di tenere Tenere? Una bandiera Così? La bandiera per andare su Marte Ok Wow, mi piace veramente tantissimo Questo secondo me deve avere una punta Un pochettino più a punta Con la bandiera italiana Sì Ok, perfetto Eh, ma la bandiera italiana però non la capisce nessuno Quasi Sono tutti americani Sono tutti stranieri Siamo patriottici Siamo patriottici Allora tu dovresti fare quella di San Marino No Eh, abbiamo però un minuto Come facciamo? Eh, fai un pianeta Fai un pianeta Fai un pianeta Una casa pianeta In un minuto Eh, non lo so Allora Fagli i capelli Devi fare i capelli al nostro vecchietto Oppure lo facciamo Aspetta Faccio la bandiera Faccio la bandiera Ok Lo facciamo pelato il vecchietto? No, gli faccio un po' di capelli Ok Però sembra No Ok, faglieli Eh, però è storta Lo dovevamo fare da destra Va bene, non importa Dai, si capisce C'è una bandiera E il nostro signore anziano È bellissimo Ok, quindi abbiamo fatto Un vecchietto appassionato Di razzi spaziali Bello, carino Molto bello Mi piace Speriamo che prendiamo un bel voto Questo? Ok Eh, ha fatto una nave da vichingo Però che va nello spazio In tanti nei commenti Ci hanno detto Di dare dei voti più bassi Se vogliamo vincere Perché siamo troppo Troppo generosi Quindi Oh, questo però mi piace Questo è carino, eh Questo gli do un good Mi piacciono i colori causati Sì, sì Questo è un macchietto Ecco Questo per esempio Gli dobbiamo dare super poop Guarda che ha fatto No, no, no Non dare super poop Perché si toglie Mi sa qualche voto Vabbè, allora gli do poop Però questo non si merita un ok Questo? Wow Che cos'è? Oh, guarda il sotto Che bello Eh, il sotto mi piace tantissimo Per il sotto Per il sotto gli do un bel good Se lo merita Oh, guarda il nostro Noi abbiamo usato molti più colori Molto, molto bello Mi piace E poi abbiamo fatto anche una persona Dai, ci siamo impegnati tantissimo Forza, ragazzi Ho visto due super poop Le ha fatti astronauti però No, vabbè Gli do un ok Gli do un ok, dai Wow Non mi piace molto È strano È una navicella degli alieni È una di quelle navicelle Che atterra sulla luna forse Vedi che c'è la luna È quella di Goku E la luna è fatta di formaggio Lo sanno tutti quanti Sembra un appartamento No, gli do poop Non mi piace Wow Eh, questo è carino Questo mi piace molto Gli do un good Questo è il migliore che abbiamo visto Per ora, secondo me No, il nostro è il migliore Che abbiamo visto Dopo il nostro, ovviamente Ah, ok E devi specificarle Un alieno? Wow Questa mi piace Wow La prossima volta lo facciamo così Mi piace tanto questo Wow Questo è bellissimo Guardate, ragazzi È praticamente Una navicella spaziale Ottimo Ho visto tre lezzendari Ma come possiamo Ma cosa dici? Sì, ti giuro Ehi vincitori No, no Nono posto No, no Bella faccia Ti devi preparare alla penitenza No, no, ragazzi Io non sento niente Perché vinco niente Ma come siamo arrivati Al nono posto Dai, ma No, no Cioè, siamo praticamente Quasi arrivati ultimi Ma quella costruzione Sì, ma no Qui era corrotto Qua è corrotto Qua qualcuno Qualcuno ha pagato I giudici Non vale, ecco Sì, sì Giardino vegetale Io faccio la casa Ok, vabbè Io faccio l'orto Ok Vuoi farla anche una persona Con la zappa in mano? Sì, sì Ok, faccio la persona Ok, fai un orto bello grande Io faccio una casa Anche abbastanza grande E poi fai la persona Anche grande Dobbiamo fare tutto grande Abbiamo poco tempo Però ci dobbiamo dare una bossa Chiaro? Allora, io non sono molto bravo A fare le case Forse avremmo dovuto invertirci Però non mi importa Cosa pensi tu? Mi raccomando Bella faccia Impegnati Perché se no Devi fare la penitenza poi Io te l'ho già detto No, no, no Io non faccio un bel dito Non l'hai capito Eh, vedremo Vedremo Non hai capito proprio niente Caddo Dai, sto scherzando Non c'è alcuna penitenza Era semplicemente per motivarti Ah, veramente? Le carote Le possiamo far uscire fuori dal terreno Uh, è vero Basta prendere l'arancio E il verde E le facciamo uscire fuori Bravo, bellissimo Le facciamo giganti Sì, 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 vai, vai Qual è la maglietta? Uh, sì Wow, si vede proprio che è un contadino Aspetta Poi devo fargli ancora il cappello Aspetta, aspetta Io nel frattempo Inizio a fare un pochettino Il terreno qua Quello coltivato Ok, quindi è un contadino vecchio stile Con la barba Il cappello di paglia E la paglia in bocca Mi piace, mi piace Un contadino vecchio stile Bravissimo Questo stai facendo? Bello, un contadino con la barba Sono bellissimo Ok, bravo Eh, tanto per la faccia Ci possiamo impegnare quanto vogliamo Ma arriveremo all'ultimo posto Perché dici così, scusa? Eh, perché siamo arrivati sempre all'ultimo posto No, 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 no Non voglio più sentirti dire queste cose, hai capito? Ok, va bene Dai, forza, possiamo vincere Quindi facciamo tipo le patate così Ti piace il mio contadino? Vediamo, aspetta Aspetta, aspetta Ti piace il mio contadino? Oh mio Dio, è fantastico Mi raccomando, devi fare anche le braccia Sì, sì, adesso gliele faccio Oh mio Dio, dammi una mano, dammi una mano Arriva, arriva, arriva Ci abbiamo 50 secondi, bella faccia Dai, tranquillo, stai tranquillo Sono a buon punto Sono a buon punto Il cappello di paglia è ok La casa purtroppo non l'ho finita Però non importa, dai Ma come? Dove dorme il contadino? Scusa Eh, vabbè No, nel senso non ho finito l'interno Ma non abbiamo il tempo Ok, ma dove dorme il contadino? Bella faccia Stiamo facendo una costruzione gigante Non possiamo pensare a tutto, no? Adesso senza di te Gianni non dorme No, dorme, dorme Guarda, gli metto un letto Così sei contento, va bene? Oh, bravo, grazie Guarda, gli mettiamo un bellettino qui Mamma mia Un letto Oh mio Dio, bellissimo Allora, vieni Aiutami a fare degli altri ortaggi Aspetta, faccio una zappa Cerco di fare una zappa Eh, non ce la faremmo mai A fare la zappa Quella faccio Guarda quanto tempo manca Ho cercato di fare un po' di patate Un pochettino di carote Questo è il nostro contadino gigante Sì, bella faccia Giuscire, ma vincere Dammi il seguito Eh, dove sei, dove sei Ti prometto che arriviamo a podio Beh, sicuramente è meglio di questo Ok, un bel contadino Sì, ma in 5 minuti Oh, guarda il nostro Guarda il nostro bellissimo contadino Oh, sì, 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 sì Eh, ha fatto delle rape Sì, vedi, lo potevamo fare anche noi Eh, potevi pensarsi Gli do un good per le rape Per l'idea L'idea mi piace molto Una serra Va bene, bella idea Sì, mi piace il fatto che ha fatto la serra Qui un agricoltore Non era facile comunque Siamo stati bravi noi Noi siamo stati veramente bravissimi Mi è piaciuta molto l'idea del contadino Sì, sì, sì Guarda, le carote Oh, questo ha fatto le carote giganti Eh, questo è carino Eh, io le volevo fare pure così Sì, questo è un bel good Purtroppo noi non abbiamo avuto il tempo Eh, tutti leggendario gli hanno dato Come tutti? Tutti? Ma come? Beh, la maggior parte La maggior parte gli ha dato leggendario Questo? Wow, ma questo che ha fatto? Ha messo le teste Ha messo le teste Oh, questo è il fan Legendario, leggendario Eh, è il fan Kendall, bella faccia Vi amiamo Vi amiamo Quindi sono due A tutti e due Ottavi 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 Ok Con quella costruzione Siamo arrivati quasi ultimi La maledizione delle beat battle Io me ne vai Io non faccio più beat battle Ciao ragazzi Ciao Dai, come siamo arrivati Ottavi con quella? No, veramente Dai, non era una costruzione No, ma stai scherzando? Era bella C'era tanta gente Che ha fatto una semplice farm Mettendo un paio di bond mille per terra E noi siamo arrivati a ottavi? Ottavi Ottavi Vabbè, ragazzi Siamo arrivati all'ottavo posto Io non so più cosa dirvi Sinceramente Fateci sapere nei commenti Secondo voi Per quale motivo perdiamo Dal vostro Kendall E bella faccia è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao